Lamberto Zauri ha smesso di calcare i terreni di gioco da calciatore, ha intrapreso la carriera d'allenatore e oggi ha lezioni da Zeman, perché? Intanto siamo a partecipare a questo master che è sicuramente una grande e bella esperienza per tutti noi, proprio perché abbiamo la possibilità di vedere lavorare i migliori. Zeman siamo venuti la settimana giusta intanto perché ha dato veramente una lezione, ha fatto innamorare anche quei pochi che non sono innamorati di lui, proprio perché ha un suo modo di interpretare il calcio che è fantastico. Quindi sono contento di essere qui oggi perché appunto vedere giocare, vedere allenare solamente anche per un giorno o due Zeman fa solamente piacere alle amanti del calcio. Un fantasista come Zauri, un numero 10 che probabilmente avrebbe meritato anche una carriera diversa per i piedi che aveva, avrebbe potuto far comodo a Zeman? Questo non lo so, ormai è passato, io ho avuto la mia carriera, mi sono divertito, avrei potuto come dicono tanti far qualcosina in più, se non è successo un po' per sfortuna, un po' per demerito mio, questo è un capitolo chiuso. Oggi mi piace stare ancora sul campo, oggi sono lì a Reggio Emilia e mi auguro di togliermi delle soddisfazioni calcistiche anche come allenatore. Zauli, perché il Pescara riesce a produrre spettacolo e le altre no? Solo una questione di Zeman, solo una questione di giocatori a disposizione? Oppure c'è più la mentalità in Italia di ottenere il risultato a qualsiasi costo a scapito anche dello spettacolo? No, il Pescara di oggi è figlio assolutamente di Zeman, ha un'impronta ben definita, i giocatori diversi se li ha portati dietro e li conosce, sceglie le caratteristiche dei suoi giocatori, quando gli è permesso di fare questo penso che abbia sbagliato veramente poche annate. E la squadra favorita alla promozione diretta in Serie A, il Pescara, secondo lei? La Serie B la conosciamo bene, oggi parliamo dopo questa giornata di campionato e diciamo che il Pescara sicuramente per quello che ha dimostrato nell'ultimo turno abbia dimostrato grandissima forza, però gli imprevisti sono dietro l'angolo, tutte le 5-6 squadre che sono lì davanti hanno dimostrato di poterci stare e quindi ci si giocherà come sempre la promozione a volte anche per un semplice punto. I piedi di Zauli erano nobilissimi, nel Pescara secondo lei qual è un giocatore importante, fantasioso, estroso come lo era lei da calciatore? No, beh, parliamo di calcio, quindi sicuramente se il Pescara sta ottenendo questi risultati oltre alla grande organizzazione e al gran ritmo che ha dato l'impronta a Zeman sicuramente ci sono dentro giocatori di grandissima qualità, insomma Insigni è facile nominarlo, Veratti è facile nominarlo, quindi sono giovani con piedi, come hai detto te, nobili e quindi grazie anche a questo si trovano in questa posizione classifica.